Martedì, il mondo era col fiato sospeso in attesa dell'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti dopo Barack Obama. Buonasera da prima pagina, subito i fatti principali di questo... Che cos'è? Mamma mia, vieni a vedere. Che è? Trump, Trump! A sorpresa Trump si è trasferito nella Casa Bianca. Voglio, no, voglio impressionante. Pazzo! Ho portato pure la nonna, il nipote, la zia, la cugina. Mamma, quelle quattro bionde, chi sono? Oh, finalmente vediamo la first lady. La moglie, l'amante. Guarda la moglie, guarda la moglie! E' quella in bianco che la suonava moglie. Beh, come first lady meglio lei che Bill Clinton, comunque posso dirlo? Meglio. Lui ha avuto tre moglie. Sono appassionata, pensa te. Uno è più bello dell'altro. Eh, lo so. Thank you. Thank you very much. Sentiamo che dice da presidente. Adesso dice bombardo il messo. Sì, sì. Cosa dirà? Stasera, tutti all'after a casa mia. Metteremo gli interessi degli Stati Uniti al primo posto, ma saremo in eccellente relazioni con tutti, nel rispetto di tutti i popoli e tutte le nazioni. Sì, sì. Tutti tranne i neri. Adesso di tutti, prima messicani, eh no? I messicani. I messicani, gli europei. E a tutti i democratici e repubblici. Mi cani dico, è giunto il momento di incontrarci come un popolo unito. Qualcuno è soddisfatto. Ah, fatto ok. Cioè già parla comunque di unificazione, cioè quindi già si sta rimangiando qualcosina che magari diceva in passato. Vabbè, lo deve dire. Eh certo, davanti al pubblico dice quello che il pubblico vuole sentirsi dire. E adesso deve un po' rientrare nei toni. Ma adesso si è calmato, tesoro, ma si doveva difendere. Vedremo. Dobbiamo un debito di gratitudine per il servizio che Hillary Clinton ha reso al nostro paese. Falsità di merda. Falso come soldi dei monopoli, ma dove va questo dai? L'America non si accontenterà mai, mai più di nulla che non sia meglio del meglio. Ma il bambino chi ha? Quello è il figlio, eh? Trampolino si chiama. Guarda il bambino com'è compito. Si dà i pizzicotti per svegliarsi. Ma che problemi ha quel ragazzino? Non dorme da due giorni. Ma che il bambino guarda e dice adesso so cazzi. Eh ma so cazzi. Quelle donne e quegli uomini dimenticati del nostro paese non saranno più relegati ad essere dimenticati. Non ci posso credere. Ma lo sai chi ha votato tantissimo per lui? Eh? I testimoni di Geova. Addirittura? Sì. Questo ha vinto contro tutti. Me l'aspettavo eh. Me l'aspettavo proprio. Abbiamo un grande piano economico. Raddoppieremo la nostra crescita e avremo l'economia più forte del mondo. Potrebbero esserci due strade. Una la più grande tragedia di tutti i tempi. Una una cosa normale. Ho vinto Trump. Che Dio, che Dio ci salvi. Che idea di cosa significa adesso? Sì, cioè tipo il finimondo. Uff, la politica. Quella è politica, quella è spettacolo. Ma l'HB.